Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video iniziato da pochissimo il Tour de France. Io sono Reduce dalle prime due tappe che sono andato a vedere dal vivo. Vi lascio giusto qualche clip, qualche foto che ho fatto nella tappa con l'arrivo Rimini e la partenza a Cesenatico. Ma essendo il Tour de France, come succede in realtà ogni anno, i brand lanciano i nuovi prodotti oppure ci fanno vedere i prototipi che stanno per lanciare nel mercato. Oggi parleremo in primis della Van Riesel FCR perché sembra proprio che sta per uscire un nuovo modello. In casa Van Riesel un modello molto aerodinamico. Oltre a loro però sono viste tanti altri marchi che hanno lanciato dei nuovi componenti tipo Orbea. Anche loro stanno per lanciare la nuova bicicletta aerodinamica, molto Orbea. Sono visti anche casti nuovi tipo il nuovo casco della POC, il Ventral Airspin. Molto simile al vecchio modello a primo impatto con una parte di carbonio come stanno facendo altri marchi. Oltre a POC però anche Uvex, il marchio dell'Inter Marché. Sta lanciando due nuovi caschi, uno più areato e uno meno areato. Come vi sto mettendo qua nella foto, non è ancora uscito ufficialmente. Difatti lo vediamo con questa trama tutta ziglinata che i marchi proprio utilizzano quando il modello di casco, in questo caso, ma potrebbe essere anche su una bici oppure su altro. Questa ziglinatura che vediamo, che è in realtà anche molto carina da vedere, ti dà un po' di confusione a vederla. E quindi non capiamo benissimo il prodotto come è fatto. E sembrano anche molto carini, devo dire. Stessa cosa ha fatto anche Rudy Project che ha lanciato un nuovo casco, come POC che vi ho detto prima, con una scocca in carbonio. Il carbonio che ormai lo troviamo anche all'interno dei cassi per renderli più leggeri. Il carbonio ovviamente è lavorato in modo tale che ti protegge molto bene e questo poi vada anche ad influire sull'aerodinamica. Ma i caschi sono un argomento a parte, ne abbiamo già parlato soprattutto dei caschi aerodinamici. Se volete andare a rivedere il video ve lo lascio qui in alto a destra. Ma ora focalizziamoci più sulla bicicletta che mi ha colpito di più, che quando l'ho vista ho detto wow, cosa sta succedendo? Ed è la Van Riesel FCR. Ma prima di andare a vedere nel dettaglio e cerchiamo di capire tutte le novità di questa nuova bicicletta, perché purtroppo non so niente, l'ho vista anch'io per la prima volta e cerchiamo di andare a dedurre quello che è successo. Vi ricordo che nell'ultimo video che ho fatto, che andavo a parlare delle nuove biciclette che si stavano vedendo in gruppo, quindi la nuova Pinarello, la nuova Trek che vi lascio qua in alto a destra se non l'avete ancora visto, sono riuscito praticamente ad indovinare tutte le nuove migliorie che erano state fatte. E quindi per questo spero di azzeccare tutto anche in questa nuova Van Riesel FCR. In questo caso sono sicuro del nome perché si è intravista una foto della parte alta del telaio dove si vedeva la scritta proprio FCR. Se andiamo a vedere la Van Riesel RCR ha proprio la scritta del modello in quel punto specifico del telaio. Stessa cosa anche per questa. La Van Riesel FCR che in realtà c'è già attualmente nel mercato, è uscita lo scorso anno, bicicletta che in realtà era stata lanciata tanti tanti anni fa come concept bike e poi uscita ufficialmente nel 2022. Van Riesel FCR, proprio questa che vi faccio vedere, è simile alla mia EDR che vi ho già fatto vedere diverse volte all'interno di questo canale e in questo caso sembra che sia proprio stata rivoluzionata. Prende le forme della RCR che vi ho già fatto vedere diverse volte che stanno utilizzando attualmente i corridori del team Decathlon Ajeto Zer. Spoiler, tra poco uscirà anche un video su questa bici dove la andiamo a vedere ancora di più nel dettaglio e non ve ne parlerò io, ma non vi anticipo altro. Vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per non perdervi il prossimo video. Detto questo però andiamo a vedere questa Van Riesel FCR. Bicicletta che a primo impatto sembra molto aerodinamica, sembra quasi un telaio da cronometro, ma a vederla sembrano tanti punti che sono stati sviluppati e sicuramente è stata creata per i velocisti. Non a caso il team Decathlon Ajeto Zer, all'interno del suo team Sam Bennett, che è uno dei migliori velocisti degli ultimi tempi, che ha vinto diverse etappe al Tour de France, negli ultimi anni non è andata benissimo per lui, ma sembra che in questa stagione stia riprendendo la gamba dei giorni migliori e vedremo anche se riuscirà a cogliere degli ottimi risultati al Tour de France. Ma oltre a loro ci sono diversi corridori veloci, tipo Andrea Vendrame che tiene molto bene i strappetti, ma è comunque un corridore molto veloce. C'è Construa che anche lui ha delle caratteristiche molto simili e con un buon spunto veloce, ma oltre a loro c'è anche Godom e tanti tanti Adel, quindi questa bici può essere sfruttata molto bene dai corridori del team Pegaton Ajeto Zer. Ho letto un articolo in questi giorni proprio di questa bici che l'ha testata Oliver Nasen, che l'ha testata Oliver Nasen prima di questo Tour de France e l'ha voluta fortemente anche portare al Tour de France e quindi per questo lo vediamo al Tour de France che la stanno utilizzando diversi corridori e è riuscito anche a fare il suo miglior tempo nel Carrefour de Labre, uno dei settori più iconici della Parigi-Roubaix che è anche l'ultimo settore difficile prima di entrare all'interno del velodromo di Roubaix. Oliver Nasen che è anche lui un corridore molto forte che ha accolto diversi risultati, forse uno dei risultati più importanti nella sua carriera è stato il podio alla Mirano Sanremo di qualche anno fa quando nessuno se lo aspettava. Mi stavo dicendo prima che quindi Nasen ha voluto fortemente portare questa bici al Tour de France e di fatti la stiamo vedendo. La stiamo vedendo che la sta utilizzando lui, la sta utilizzando il velocista di punta della squadra Sam Bennett e l'ha utilizzata anche il capitano al Tour de France, Felix Gall. Lo abbiamo visto che la utilizzava in realtà nei giorni prima che iniziasse il Tour in ricognizione, nelle prime due tappe non l'ha utilizzata, avrà preferito sicuramente la RCR che penso sia una bicicletta più leggera quindi più adatta a quelle tappe, alla tappa con l'arrivo a Rimini e la tappa con l'arrivo a Bologna ma nella tappa di Bologna comunque l'abbiamo vista su Nasen e su Sam Bennett, vi lascio qua la foto che sono riuscito a fare alla partenza proprio. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che si nota. La prima cosa che notiamo sono i tubi. I tubi sono molto più grandi rispetto all'RCR, ricordano molto la dare ultradinamica che ve ne avevo già parlato in qualche video precedente. Quindi mi immagino che Van Riesel avrà collaborato come per l'RCR con Swiss Side per creare una forma estrema ma molto aerodinamica che nelle volate può far la differenza in questo caso. Essendo una bicicletta che deve performare nelle volate un'altra cosa che avranno tenuto in considerazione sicuro la rigidità del telaio. Rispetto all'RCR mi immagino che questa è una bicicletta molto più rigida, perfetta proprio per i velocisti non me la vedo in una tappa di salita. Il peso sicuro è aumentato, non penso che siamo sui 6,8 kg della rcr ma qualche etto in più sicuro c'è, quindi la sparo, la bici montata come la stanno utilizzando i pro, siamo sui 7 kg e 4-7 kg e 5. Ovviamente sono deduzioni che sto facendo queste ma lo scopriremo più avanti se avrò indovinato tutto anche questa volta. Altra cosa che si nota che è cambiata rispetto all'RCR. Vi faccio vedere una foto dove c'è a destra l'RCR e a sinistra questa FCR si vede che anche il manubrio è cambiato. È sempre un manubrio che ha creato Deda in collaborazione con Van Riesel, ha praticamente gli stessi adesivi però lo vediamo che è diverso. Rispetto al manubrio dell'RCR è più largo. Mi immagino che sicuro Deda ha fatto un bel lavoro con Van Riesel e con Swisside perché era un manubrio più aerodinamico e sicuramente hanno seguito il trend di tutti gli altri marchi ancora più estremo del manubrio dell'RCR che hanno, che comunque era fatto molto bene perché aveva un po' di flare, nella parte più alta rispetto alla parte più bassa si limava qualche centimetro. In questo caso ad occhio si vede che c'è ancora più di flare, quindi nella parte alta il manubrio è tanto più sottretto rispetto alla parte bassa, quindi si possono notare proprio queste due cose. La prima che è tanto più largo quindi sicuro è stato lavorato in galleria del vento e la seconda cosa è che nella parte più alta abbiamo qualche centimetro in meno di larghezza rispetto alla parte più bassa e vi lascio qua in alto a destra se non avete ancora visto il video dove andavo a parlare dei manubri aerodinamici dell'evoluzione che c'è stata nell'ultimo periodo. Altra cosa che notiamo oltre alla parte anteriore del telaio che vi avevo accennato prima che è diventato molto più larga e quindi anche sicuramente molto più aerodinamica, tutti i tubi sono diventati molto più grossi e soprattutto nella parte posteriore. È molto simile in realtà come linea alla RCR, i tubi e il tubo sella sono tanto più larghi e quindi immagino proprio quanto lavoro c'è stato nell'aerodinamica. Stessa cosa anche nella forcella, la forcella è tanto più larga e notiamo delle scritte molto interessanti anche nel telaio perché se andiamo a guardare vicino alla guarnitura c'è scritto 1500 watt minimum. Ci fa intuire proprio che questa bici sarà perfetta per le volate e tutti questi tubi e la grandezza proprio di questi tubi come vi ho accennato prima fa dedurre che il peso è aumentato e non sarà sicuramente utilizzata nelle tappe di alta salita. Il manubrio anche si vede nella parte laterale come la parte di attacco manubrio sia molto allineata col telaio proprio lo rende un tutt'uno e devo dire anche sembra molto carino. Stessa cosa gli spacer sotto all'attacco manubrio si abbinano perfettamente con il telaio. Che dire sono molto curioso di scoprire i suoi dettagli. Non so quando uscirà in commercio ma conoscendo un attimo i tempi che ci potrebbero essere dietro e i tempi delle scorse bici quando sono state presentate e quando poi sono uscite ufficialmente al pubblico secondo me questa bicicletta sarà poi disponibile al pubblico verso la metà barra alla fine del 2025. Ma detto questo spero di aver indovinato tutto in questa bicicletta. Spero di aver indovinato anche la data che vi ho appena detto ma ancora di più spero che questo nuovo video vi sia piaciuto. Mi raccomando se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, lascio nella campanellina per non perdere tutti i prossimi video. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di lasciare un bel like e detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima!